ciao sono il dottor max della pharma max che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo in questa nuova serie di video dedicata agli integratori alimentari ti leggerò i foglietti illustrativi degli stessi prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale mettere un mi piace ai video che ti interessano e commentare con le tue esperienze personali in base ai farmaci integratori o principi attivi da te assunti in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute grazie ai suggerimenti condivisi in questo video esaminiamo l'integratore alimentare neocistin pacca urto biosline spa ultimo aggiornamento 7 aprile 2022 a cosa serve confezioni informazioni commerciali indicazioni modalità d'uso descrizione e caratteristiche allergeni ingredienti apporto nutrienti immagine prodotto a cosa serve neocistin pacca urto è un integratore appartenente alla categoria degli integratori per il benessere dell'apparato urogenitale è commercializzato in italia dall'azienda biosline spa informazioni commerciali titolare biosline spa concessionario biosline spa categoria di appartenenza integratori per il benessere dell'apparato urogenitale forma farmaceutica polveri orali confezioni neocistin pacca urto sei bustine indicazioni per affrontare rapidamente i fastidi alle vie urinarie nelle fasi più acute modalità d'uso ai primi fastidi due bustine al giorno lontano dai pasti uno bustina la mattina appena svegli e uno bustina la sera prima di coricarsi da sciogliere in un po d'acqua e bere subito si consiglia di bere due litri di acqua nell'arco della giornata descrizione e caratteristiche neocistin marchio registrato pacca urto nella nuova formula potenziata contiene un estratto di cranberry mirtillo rosso americano ad alto titolo in pro antocianidine di tipo a pacca che recenti studi scientifici hanno dimostrato essere le più attive per favorire il benessere delle vie urinarie la ricerca alla base della nuova formulazione è stata completata in collaborazione con il dipartimento di scienze del farmaco dell'università di padova l'altra innovazione importante rispetto alla formula precedente è l'inserimento della quercetina e dell'estratto di coleus titolato in forscolina infine completano la formula il dimannosio la vitamina c l'olio essenziale di melaleuca tea 3 e oil formula brevettata n 1 3 8 17 61 elevato dosaggio di pro antocianidine di tipo a pacca da cranberry presenza di quercetina ed estratto di coleus titolato in forscolina elevato dosaggio di dimannosio allergeni senza glutine e senza lattosio ingredienti dimannosio cranberry frutto titolato in pro antocianidine di tipo a coleus radice melaleuca alterni foglie olio essenziale quercetina e vitamina c apporto nutrienti contenuti medi 2 bustine per cento vnr cranberry frutto est al 36 per cento in pro antocianidine pack 360 virgola 00 mg pari a pro antocianidine totali 129 virgola 60 mg di cui pro antocianidine di tipo a metodo hp lc ms barra ms 110 virgola 16 mg coleus radice s tit al 10 per cento in forscolina 150 virgola 00 mg pari a forscolina 15 mg dimannosio 2600 virgola 00 mg vitamina c 360 virgola 00 mg 300 quercetina 200,00 mg melaleuca o e 3 mg fonte codi fa l'informatore farmaceutico per avere accesso alla versione più aggiornata si consiglia l'accesso al sito web della codi fa l'informatore farmaceutico grazie per avermi seguito fino a qui spero che la farma max ti sia stata utile iscriviti al canale e sarà informato sulla pubblicazione dei nuovi video buon proseguimento ci vediamo al prossimo integratore alimentare esaminato